Il ministro dell'Interno Lamorgese sarà a Napoli. Un appello. Al ministro chiedo una maggiore presenza dello Stato nella nostra città, affinché tutti coloro che ci vivono si sentano sicuri. Da 15 anni Don Pasquale Paduano, parroco della Chiesa Immacolata, concezione di Torre Annunziata e in prima linea contro l'illegalità diffusa sul territorio. L'ombra della criminalità purtroppo a legge sulla nostra città hanno grande ascendente, grande potere anche sui commercianti. Una provincia dove la Camorra da anni impone le sue regole. Don Pasquale Annunziata non offrendo chissà quale possibilità per il futuro, tanti giovani possono essere presi da queste forze. Il comune sciolto per Camorra è sotto la lente di ingrandimento degli ispettori inviati dalla prefettura e i dati raccolti sembrano scoprire una cupola fatta di colletti bianchi e criminalità. Abbiamo avuto questo problema, il comune è stato sciolto proprio per episodi che riguardano il malaffare. La Camorra da anni controlla anche le elezioni comunali. Siamo in un ambiente completamente povero. Questa povertà potrebbe spingere questi soggetti a compiere dei gesti che magari non sono leciti. La presenza dello Stato sul territorio c'è, ma serve anche altro. Abbiamo bisogno che tra le strade, tra i vicoli del quartiere, lo Stato sia presente in tutte le sue forme.